Amici di Quarta Parete, buonasera. Sono qui al Teatro Sofia, come vedete qui alle mie spalle, via della Petrina 7, pieno centro storico, siamo a due passi da Piazza Navona. E la prima domanda che io mi pongo è, a chi nella vita non è mai capitato di restare imprigionato nell'ascensore? A qualcuno se l'ha capitato, ecco, a me è successo tanti anni fa. Ma il punto è, se la persona con la quale rimaniamo bloccati non la conosciamo, o la conosciamo solo così, casualmente, di vista, insomma, che cosa succede? Guido Lomoro, buonasera. Buonasera Andrea, benvenuto. La domanda è pertinente. La domanda è pertinente, dall'altro anch'io sono rimasto chiuso in ascensore, da solo però. Quando invece l'incontro è con un'altra persona può succedere di tutto. Può succedere che si incontrino due persone che scoprono di assomigliarsi molto, pur non conoscendosi. Forse di 6 metri si va un po' nel panico. Eh, assolutamente, perché sono due persone che soffrono entrambe di attacchi di panico, prendono appunto questo famoso Xanax. Farmacodipendenti. Esatto, questi calmanti. E quindi il fatto che si sia fermato l'ascensore gli fa cadere ovviamente nel panico. Ma questa prigionia nell'ascensore si prolungherà per oltre 48 ore, quindi comincia una sorta di piccola convivenza. Si apre un mondo diverso. Si apre un mondo diverso, perché i due cominceranno a conoscersi, cominceranno a raccontarsi l'uno dell'altro, e poi per sapere cosa succederà bisogna per forza venirlo a vedere. E quando veniamo e da quando veniamo? Allora, Xanax è dal 21 al 24 novembre. La prima sarà domani. Ore 21. Ore 21, domenica pomeridiana alle ore 18. Allora, Xanax è scritto da Angelo Longoni e interpretato da Giulia Martinelli e Alessio Binetti. Ci sono anche delle coreografie, caro Guido, raccontaci. Sì, bellissimo, questa collaborazione fantastica con Maria Borgese, coinvolto in questo progetto. Xanax non era un testo che prevedeva coreografie, però la mia mente folle le ha inserite. Luciferina. Esatto, mi sono avvalso della collaborazione di Maria Borgese, che è una ballerina, coreografa, regista fantastica, una persona con la quale ho lavorato in maniera magnifica, ed è venuto fuori una versione anomala di Xanax, proprio anche per questo. Di cui tu qui curi la regia, naturalmente, e quindi questa storia assolutamente può essere anche una sorta di terapia, fondamentalmente? Assolutamente, i due protagonisti si faranno una terapia reciproca, e penso che il pubblico è uno spettacolo divertente, dove si ride, però dove si riflette molto. Sempre una cifra leggera, comunque. Una cifra leggera, però una cifra anche profonda, che sono i testi che io preferisco, e Longoni in questo è bravissimo, nel scrivere questo tipo di testi. Che sarà presente, tra l'altro. Sì, sarà presente in una delle repliche, e ci fa molto piacere. Che darà il valore aggiunto, no? Assolutamente, si è dimostrato estremamente disponibile. Fammi spendere solo due parole per i due protagonisti, che sono Giulia Martinelli e Alessio Binetti, che sono due giovani attori bravissimi, di grande talento, di grande professionalità, che si sono... Sono un po' una sorta di padre putativo. Ma sono straordinari, si sono spesi con una grande generosità, con una grande umiltà, non accontentandosi del loro talento. Hanno lavorato veramente tanto e bene. Duramente, duramente. E poi un regista esigente come te, caro... Esigente con se stesso, prima di tutto, e quindi anche con gli altri, però sempre con serenità. Abbiamo sempre lavorato in un clima sereno, questo è importante. Con il sorriso sulle labbra. Sempre, sempre. Allora, Teatro Sofia, Via della Vetrina 7 e Xanax di Angelo Longoni, dal 21, quindi da domani, ore 21, fino a domenica, ore 18, con Alessio Binetti, Giulia Martinelli, le coreografie di Maria Borgese e la regia dell'ineffabile Guido Lomoron. Ciao Guido! Ciao André! Merda, ovviamente! Merda, merda! Abbiamo sdoganata! Sì! E buon teatro, dai! Buon teatro sempre! Andate a teatro! Grazie!